E' una gentleman, cavalli di 5 anni, sul miglio, Witton numero 5 non corre, così come Telma numero 10. Ne rimangono in 11, totalizzatore orientato molto verso Vegas Clodolet con i buoni Iaccarino, in ottimo periodo. Mezzo meccanico in movimento. Cavalli al completamento della piegata, prende via la macchina in velocità. Ci chiudono le ali e si lotta per il comando, poi Vegas va al comando nei confronti del numero 8, Bain, che è partito molto forte. Ci completa il lancio nell'ordine del 14. In terza posizione, Valkyria Matto risale il numero 2 di Viburno Spin, mentre trova traffico già il 3 di Universal Pryer. I cavalli completano il quarto iniziale, che se ne va in 38. Viene via la grande Universal Pryer a largo di tutti e punta su Vegas Clodolet. 600 iniziali, se ne vanno in 45 e 9. Si viaggia da 1,16 e mezzo. Si fa spazio all'avversario e parcheggia al comando Vegas con il buon Iaccarino. Ci completa il mezzo migno iniziale. Un minuto e un po' di spiccioli. Una frazione in 14,4. Viene via Valerio San, numero 13, ma anche lui trova un po' di traffico dalla cuda. Controlla bene a The Situation il leader, che completa il chilometro in 15,8. E questa targata Clodolet, che è una brisca IBF, si mantiene in vantaggio. Viene via alla grande ora il numero 12 di Vigor De Veltri, che punta in avanti e va sui primi. 14,8, 1,36, tre quarti di miglio. Ma il buon Iaccarino fa bene ancora i calcoli, allunga e si distende. E la targata Clodolet mantiene il comando cost to cost di Iaccarino, poi un ottimo Universal Pryer, con Franzese, che tienta l'ultimo a fondo, ma il palo si avvicina. Non c'è più tempo, non c'è più tempo. Vegas, facile. Terzo, Vigor De Veltri. Due minuti e un po' di spiccioli, uno 15,3. Un cost to cost, veramente molto raffinato, di questo Iaccarino, che sta crescendo di corso in corso, con le sue guidate. E oggi, con questa Vegas, dà dimostrazione di uno stop and go. Intanto c'è la sirena che mette subiudice la corsa. Quindi attendiamo giudice d'arrivo, giuria, per confermare, tanto per cambiare, la quarta. La nostra è sempre ufficioso. L'idea è anche l'arrivo. Linea allo studio. L'idea è anche l'arrivo.